Ciao a tutti, questa mattina sono di test, nel senso non di testa, di test, sto provando le mie nuove fotocamere stenopeiche appena costruite, insomma sto sempre a costruire fotocamere e ogni tanto le devo anche provare per capire se possono funzionare. Ecco ci sono quegli alberi, questa strada di campagna con degli alberi che diciamo così con la classica fotocamera stenopeica super grandangolare non verrebbe poi così bene, bisognerebbe stringere un po' e infatti le nuove fotocamere stenopeiche che ho realizzato sono un pochino più tele, diciamo così, anzi una è proprio quasi tele. Questa qui ricavata molto malamente ma non c'era altra soluzione da una box camera della ACFA, la ACFA box, è un 100 mm sul 6x9 che è il formato della fotocamera, comunque è un po' più del normale, diciamo intorno al 60 mm poi la utilizzerò nel formato 6x6, quindi diciamo un 60 mm che non è male e per questo soggetto va molto bene. L'altra realizzazione, eccola qua, la mia pinolga, una olga che si era rotta tra l'altro, a cui ho tolto l'obiettivo sostituito con un foro stenopeico. Questa volta ho anche aggiunto uno spessorino montato con la colla Sugru, con questa specie di pongo che diventa poi davvero molto resistente e questo, diciamo così, è un obiettivo da 50 mm che sul 6x6 è proprio il classico grandangolo normale, diciamo un 28 mm potremmo dire. E quindi non è quei super grandangoloni che spesso noi amanti del foro stenopeico andiamo cercando, perché indubbiamente sono interessanti, spettacolari, ma non sempre si adattano ai soggetti. Quindi oggi sto cercando dei soggetti un pochino più ristretti e così vedrò i risultati e capirò se, diciamo, possono essere delle fotocamere utili. Alla prossima!